Dal 1 luglio taglio delle accise del 40% per rilanciare qualità e produzione artigianale delle birre. I birrifici in crescita nell'isola potranno sfruttare il provvedimento che consente di risparmiare sulle tasse. Un'azione importante, spiega Mameli di Confartigianato Sardegna, ma nell'isola manca un'azione coordinata di promozione e sviluppo che tuteli il vero prodotto artigiano. Sono 30 i birrifici artigiani della Sardegna che il prossimo 1 luglio, stappando una spumeggiante bionda, potranno festeggiare la riduzione del 40% delle accise su ogni ettolitro prodotto. La novità riservata ai piccoli birrifici con produzione non superiore ai 10.000 ettolitri è stata introdotta con la legge di bilancio 2019. Lo stesso provvedimento prevede anche che la birra venga tassata al momento della emissione al consumo, ovvero nel momento dell'uscita del prodotto dal magazzino per essere venduto. Novità fondamentale è questa perché prima, al contrario, il prodotto veniva tassato direttamente nella fase di produzione del mosto, a monte della fase di fermentazione della quale sarebbe poi scaturita la birra, con un evidente anticipo della tassazione a molti giorni rispetto al momento della vera produzione e soprattutto tassando anche quella parte di prodotto che alla fine del ciclo produttivo veniva scartato. Secondo alcuni calcoli effettuati, i birrifici potranno tagliare circa 20 centesimi di euro per ogni litro di birra prodotto, con un risparmio medio che va dai 10.000 ai 15.000 euro, un gruzzoletto che le micro realtà potranno utilizzare per l'acquisto di macchinari, oppure in ricerca, formazione e comunicazione. Grazie a tutti.